John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, diciamo che per quanto riguarda gli scontri ad eliminazione diretti interessanti tra italiane, questo credo che fosse l'ultimo prima della finalissima, perché stasera avremo Fiorentina Cremonese, ma possiamo dire che più o meno sappiamo già quello che succederà? Ora, diciamo che con la Fiorentina non si sa mai quello che succederà, perché ad esempio con il Lech Poznań all'andata 21-4, il ritorno stava perdendo 0-3, poi per fortuna sua e del calcio italiano è recuperato fino al 2-3, quindi prendendo la qualificazione per i capelli, però comunque diciamocelo, diciamolo che insomma la Fiorentina può sempre regalarci delle sorprese, o che siano positive o negative, può sempre regalarci delle sorprese. Per questo, ok, stasera guarderemo con grossa attenzione Fiorentina Cremonese, ma lasciatemi dire che credo che tutto sommato la Fiorentina il turno lo passerà. Per questo vi dico che adesso aspettiamo la finale, adesso aspettiamo anche Inter-Milane-Milane-Inter di Champions League, però negli scontri tra italiane e quelli proprio a eliminazione diretta, questo era uno degli ultimi interessanti di cui avevamo necessariamente bisogno. E allora Inter-Juventus, finisce 1-0, ne abbiamo parlato ieri, ma oggi va fatta un'analisi un po' diversa. Perché io ho l'impressione che la Juventus stia un pochino perdendo la rotta. Prima di iniziare lasciate tantissimi mi piaci, iscrivetevi al canale, chi non si iscrive al canale non arriva a Natale, ma soprattutto, soprattutto, mi raccomando, venite a seguirmi su Instagram, Simone Sickolf-BassoOfficial, se mi seguite il primo di maggio potrete vincere la maglia della vostra squadra del cuore. Detto questo arriviamo al concetto base, poi andremo a fare anche le pagelle, ma partiamo da un concetto base. Il concetto base si collega tutto intorno a Massimiliano Allegri. È un up and down continuo, però io credo che la Juventus, in parte, abbia sbagliato il mercato, la preparazione, la stagione. Si è provati, avete provato a parlare di una Juventus che magari aveva dei problemi per la penalizzazione e io, in grande sincerità, sono d'accordo con voi. Cioè, io credo che la Juventus abbia sofferto tanto il fatto di aver prima preso una penalizzazione, poi gli è stata tolta, poi parkour, fai una giravolta, falla un'altra volta. Cioè, chiaramente, la Juventus queste cose qui le ha sofferte, ma è normale e giusto che sia così. Però a un certo punto tu la quadra la devi trovare. Io non penso di poter arrivare, oggi è 27 di aprile, ma ieri era 26 di aprile, con la Juventus che ancora non ha una quadra. La partita di ieri della Juventus è una partita pessima, pessima. Non è che l'Inter abbia fatto calcio champagne, in generale è stata una partita brutta, ok? Però comunque l'Inter ha avuto le sue occasioni, il miracolo di Perino nel secondo tempo, il gol annullato sempre nella ripresa, il gol dell'Inter del primo tempo. Insomma, l'unico lampo della Juventus in tutta la partita è stato quello di Kostic. E personalmente credo che sia una cosa che ti fa riflettere, che ti fa capire come ancora, dopo tutti questi mesi, Massimiliano Allegri non abbia capito come mettere in campo la Juventus. Che non è un discorso di assenze, perché la Juventus con o senza assenze resta comunque una delle migliori, se non la migliore in assoluto, squadre del nostro campionato. Mi viene in mente appunto il centrocampo, ad esempio. Nel senso, vediamo il centrocampo, no? Fagioli e Mireti sono due giovani in male lancetti, tu hai preso Paredes, hai Pogba, hai sempre rotto. Sì, ma ragazzi, Pogba sarà pure sempre rotto, ma è una scelta che hai fatto tu. Cioè tu quando hai preso Pogba conoscevi la tenuta fisica di Paul Pogba? E l'hai preso dando via Paolo Di Bala, due ruoli completamente diversi, sono d'accordo con voi, ma sul quale avevi dei grossi dubbi relativi alla condizione fisica. E allora la mia domanda è la seguente. Siamo così sicuri che la Juventus abbia solo sfortuna per situazioni di infortuni? Allegri disse, togli al Milan cinque giocatori, titolari e vediamo che era il Milan e vediamo quello che fa. Raga, il Milan lo scorso anno ha vinto lo scudetto con tantissime assenze ed ha continuato comunque a volare, ha continuato comunque a far punti. Anche quest'anno i rossoneri, insomma, non è che non hanno avuto assenze, eh. Cioè comunque spesso hanno dovuto far giocare Krunic in cabina di regia o comunque di fianco al regista. Dietro hanno dovuto riscoprire per forza di cose ciao perché erano rimasti senza centrali. Faccio l'esempio del Milan, potrei fare l'esempio dell'Inter, potrei... L'Inter che si è rivoluzionata, l'Inter ha preso Darmian, cioè ha preso Darmian, ha rilanciato Darmian, ha rilanciato Acerbi. Vi ricordo che la difesa dell'Inter era Skriniar, Bastoni, De Vrij con De Vrij che doveva andare via per prendere Bremer. E invece Bremer è andato alla Juventus e l'Inter ha rilanciato De Vrij e ha messo vicino due che non erano manco lì. Cioè il primo panchinaro della difesa era Di Marco che adesso gioca esterno a sinistra. Gioca largo, è tornato a giocare largo come giocava ai primi anni di Inter in primavera e nei vari presti di fatti tra Parma e eccetera, ok? E l'Inter poi dietro ha messo Darmian e Acerbi, l'Inter si è dovuta reinventare. È stato un elemento che l'Inter ha fatto, un percorso che l'Inter ha fatto con tutte le undici sconfitte. Perché non facciamo il giochino di dire che quando l'Inter perde fa schifo, quando l'Inter vince è fenomenale. L'Inter è forte nelle coppe, però arriva un punto in cui Massimiliano Allegri qualcosa a casa deve portare. Cioè io sono il primo a difenderlo, io sono il primo a difendere il gioco efficace. Per quanto possa essere brutto è comunque efficace, io sono il primo a difenderlo. Poi però, stringi stringi, il 27 di aprile tu qualcosa mi devi aver portato, devi aver raggiunto qualcosa, non dico tutto, qualcosa, qualcosa devi aver raggiunto. Perché se tu non hai raggiunto niente e siamo al 27 di aprile, e non parlo di risultati positivi, perché poi la Juventus è terza, anche se con la sconfitta di ieri questa è la quarta sconfitta di fila che la Juventus fa in territorio nazionale, tra Coppa Italia e campionato. Ok, è la quarta sconfitta di fila. Chiaramente c'è una Champions League dove la Juventus dovrà fare, c'è una, come si dice, un finale di campionato della Juventus dovrà prendere la Champions League, e al momento è terza, non è così distante la Roma, non è così distante il Milan, manco troppo l'Inter a dir la verità, però può ancora ad esempio prenderla Lazio, ad esempio, che ha perso col Torino, poi la Juventus ha perso contro il Napoli. È lì anche la Lazio, sono tutte lì. Però comunque la Juventus ha una rosa che può tranquillamente arrivare nei primi due posti, tre posti, sì, però sta facendo il suo. In Coppa Italia, arrivata in semifinale, ci sta, però è una sconfitta che pesa, si aggiunge poi, all'eliminazione di Champions League. E adesso sei quasi costretto a vincere l'Europa League, perché di fatto è l'unico trofeo che potresti vincere. E non ci dimentichiamo che la Juventus negli ultimi anni, tra Paredes, tra Bremer, tra Vlaovic, ha preso anche Gatti, ha preso Pogba, ha preso Kostic, cioè la Juventus si è rivoluzionata tanto per fare poi quello che aveva fatto un anno fa, e allora non è valsa la pena. E la cosa che mi spaventa, che poi mi spaventa fino a un certo punto, a me me ne frega il giusto, perché sono romanista, però poi faccio un'analisi della Juventus, e la cosa che mi spaventa per la Juventus è forse quella legata al fatto che in questo momento la Juventus, dovessi andare a fare un'analisi, ha costruito poco, cioè in difesa, ok Gatti, però ha costruito poco, a centrocampo si è lanciato Fagioli, però poi, cioè l'anno prossimo ti ritrovi ancora con un Paredes che va mandato a casa e un Rovella che devi ancora fare subentrare, l'avessi tenuto al posto di Paredes, adesso staremo parlando di altro, rischi di perder Rabiot a giugno, e allora ricostruisci anche con Rabiot, senza dimenticare poi che, insomma sì, Kostic ce l'hai, è tuo, però poi, insomma, dall'altra parte dovrai capire come giocare, dovrai capire il sistema di gioco da fare, ti torneranno Artur, ti torneranno Zaccaria, ti torneranno... cioè la Juventus forse per cercare di rimanere su, per cercare di confermare la Champions, sta perdendo piano piano ma senza fare il passo in su, e forse un passo in su servirebbe, al di là dei risultati, poi magari sono un pirla, ci sta, ognuno pensa quello che gli pare, fatto sta comunque che i bianconeri dovranno ancora giocare l'Europa League e da lì passerà la sua stagione. Dall'altra parte oggi ho parlato un po' più di Juventus perché l'Inter la conosciamo, cioè l'Inter ragazzi la conosciamo, Inzaghi lo conosciamo, Inzaghi in campionato fa schifo, fa cagare, non so neanche cosa arriverà tra le prime cinque, però poi quando si tratta di coppe non mi sorpre... per me passa il Milan in finale, ma io non mi sorprenderei se l'Inter vincesse la Champions, ve lo dico con grande chiarezza, cioè Inzaghi ragazzi è un animale da coppe, è questo eh, lo ha sempre dimostrato, lo ha dimostrato ad ogni situazione, non mi sorprenderei per niente. Facciamo le pagelle, va, facciamo le pa-pa-pa-pa-pa-pa-gelle. Allora, l'Inter, Onana, Onana, diamo un 7 ad Onana, ovviamente darò voti alti ai giocatori dell'Inter, voti un po' più basi ai giocatori della Juventus perché al di là del fatto che qualcuno dirà vabbè, ma più o meno erano lì, sì raga, ma l'Inter ha vinto e è passato, la Juve ha perso, si è eliminata, quindi insomma i voti, vi dico subito, almeno per quanto mi riguarda, ma ormai dopo dieci anni di YouTube dovreste saperlo, sono, come posso dire, sono, diciamo, uniti poi alla prestazione della squadra e al risultato ottenuto dalla squadra. Onana, 7, fa una parata di Cristo nel primo tempo su Kostic, è l'unica vera occasione della Juventus, poi non fa più niente, quindi, insomma, vi è arrivato in casa una volta, deve fare un miracolo, lo fa, che gli vuoi dire? Io personalmente, niente. Difensori, 7 a tutti quanti. 7, e tanto guardo di qua perché ho tutte le cose scritte di qua, 7 a Darmian, 7 a Darmian perché? Perché Chiesa penso che non abbia strusciato un pallone, non che poi Darmian abbia dovuto fare chissà cosa, Chiesa sembrava tipo una capretta impaurita, era lì, faceva il, però Darmian l'ha tenuto a bada, non gli ha fatto strusciare un pallone. Acerbi è un altro 7. Allora, ha sofferto un po' di più quando è entrato Milik, però devo dire una cosa, io penso che Allegri l'avesse preparata con l'attaccante leggero, non l'ho capita, cioè, per me era inconcepibile. Gioca con, non c'hai Vlaovic, gioca con Milik. Cioè, ma come fai a giocare con un attaccante leggero un ritorno di una semifinale di Coppa Italia contro un Inter che dietro gioca con Darmian, Acerbi bastoni a 3. Cioè, contro una squadra a 3, che tra l'altro manco pressa a uomo, perché l'Inter manco pressa a uomo, anche perché c'ha i braccetti che, insomma, hanno sparati alti e in fase di non possesso non ti aggrediscono, ma aspettano che sei tu che fai il primo passo. Ecco, lui l'ha preparata con l'attaccante leggero. Per me è una cosa inconcepibile. Acerbi è lì, domina. È sempre una mossa davanti a tutti gli attaccanti della Juventus che si intercambiano. Forse ve l'ho detto, quando entra Milik è un po' più sofferente, lo vedo, tant'è che secondo me se avesse messo Milik dall'inizio avremmo parlato di altro. 7 anche a bastoni. Secondo me 7 anche a bastoni e in generale ha annullato Di Maria. Quando annulli Di Maria, e è Di Maria, significa che sei un signor calciatore. Bastoni è un signor calciatore. Assolutamente sì. Centrocampisti centrali. Barella 8. Mi dispiace, perché io non so mai che cosa dire di Barella. Barella fa una partita da 47 e una partita da 2. Stavolta è la partita da 47. Barella 8. Subito rischia di far gol all'Inter, che sia un pallone geniale che Barella dà per Edin Dzeko. Poi il pallone per Di Marco glielo dà sempre lui. Giocatore straordinario Barella. Quando è in giornata ti cambia le partite. Migliore in campo. Sì, migliore in campo. Vicino a lui gioca Cancelanoglu, al quale diamo un 7, perché pure Celenoglu secondo me fa il suo sporco lavoro. Nel modo migliore possibile. E devo dire che ha fatto molto bene, perché? Perché ormai ha il suo nuovo ruolo. Cioè, ormai ragazzi, giocare lì per Celenoglu è la cosa più semplice del mondo. E vi dirò che forse il suo rendimento è calato quando dal 67esimo è entrato Brozovic, al quale diamo 6,5. Ha fatto qualcosina e niente più. Purtroppo Brozovic e Celenoglu oggi non sono più compatibili assieme. Si acciaccano i piedi, Cianoglu 7, Brozovic 6,5. Mkhitaryan 7,5. Stava per far gol. Se non avesse fatto quella cazzarola di parata Perin avrebbe fatto un gol straordinario. E è ovunque, è un polmone. Nonostante l'età, Mkhitaryan è veramente un polmone. Si trova, un polmone in senso positivo, il polmone dell'Inter. Si trova ovunque, corre, non si ferma mai, si sovrappone. Giocatore straordinario. Sulle due fasce diamo un 6,5 e un abbraccio a Dumfries. Non mi ha fatto impazzire, 6,5 perché l'Inter è passata. Però ha fatto il suo. Gli manca sempre il centesimo per fare l'euro. Se vede un inserimento da una palla o è troppo corto o è troppo forte o è imprecisa. O lui fa un movimento sbagliato. Se deve fare un movimento verso lungo, magari lo fa troppo corto oppure lo fa troppo lungo. C'è sempre qualcosa che non va. Ecco, questa è una cosa che di Dumfries è secondo me... Regà, è l'anello debole. Cioè, se l'Inter ci fa anche 25 milioni, per me è grasso che cola. L'Inter deve sostituirlo. Non solo per il fair play finanziario. Anche perché in questo momento Dumfries è veramente il giocatore meno forte dell'Inter. Di Marco, 7,5. A parte che ha fatto il gol che ha permesso all'Inter di passare il turno. E già per questo, per me, si meriterebbe il 7,5. Ma al di là del 7,5 continua ad essere un calciatore straordinario. Sta tenendo una media, tipo la leggevo ieri, una statistica simile a quella di Hakimi. È un giocatore che sa fare perfettamente la fase difensiva. Tant'è che ogni tanto si abbassa tipo a fare il braccietto, nonostante da braccietto ci sia bastoni. Ma sa fare anche la fase offensiva. Spinge, che è una bellezza. Di Marco è un giocatore straordinario. Al suo posto entra Gosens, al quale diamo un 6,5. Fa un quarto d'ora. Permette all'Inter di accompagnare la gara alla fine. Va bene così. Davanti Dzeko e Lautaro. Ma vanno a voto anche Lukaku e Correa. Ed in Dzeko, 6. Ed in Dzeko, 6. Segna poco, segna sempre meno. Ieri non mi ha fatto manco impazzire a dirvi la verità. E forse sarebbe stato più, ma che cazzo, più funzionale Lukaku rispetto che Dzeko. Però è facile dirlo. Quando fa male Dzeko diciamo, è quando fa male Lukaku diciamo, è l'altra cosa. Lukaku quando entra 7. Però questo per me è un momento top per Lukaku. E avrebbe secondo me dovuto giocare. Ed in Dzeko un po' peggio. Lautaro invece d'ho 6. Mi dispiace ma è impreciso. Cioè ieri leggevo un commento di un ragazzo che diceva, io condivido, se l'Inter ci avesse un attaccante prolifico avrebbe vinto la partita anche con un po' più di scarto. Cioè magari è esagerato perché Lautaro non è che è una pippa. Però comunque è molto forte anzi. Però non è quell'attaccante che la butta dentro. Poi fa un lavoro sporco gigantesco. Non è nemmeno il suo compito. Cioè Dzeko dovrebbe buttarla dentro o Lukaku quando entra. Lautaro deve fare un lavoro di rifinitura. Però quando ti capita la palla e la butti sempre altrove allora qualcosa non va. 6 anche a Correa. 6 a Correa. Beh fai il suo, dai gioca un quarto d'ora. Tiene sulla palla, fa quello che deve fare. Core un po' per campo a caso. Simone Inzaghi 7,5. Quando si tratta di Coppa Simone Inzaghi passa sempre. Il turno non ho niente da dire. Passiamo alla Juventus se no non finiamo più. 6,5 a Perin. Ragazzi se non ci fosse Perin, se la Juventus non avesse qui i portieri che ha probabilmente sarebbe molto più in basso. Tiene a galla la Juventus per tutta la partita sia a livello di prestazioni sia anche per la parata gigantesca che fa su Mkhitaryan. Non può nulla sul gol di Di Marco. Per me è un 6,5. Darei anche di più ma la Juventus ha perso ed è uscita dalla Coppa. Bremer, Bonucci, Alexandro. Allora, Bremer diamo 5. Bremer diamo 5 perché poteva fare qualcosa di più. Non lo so, non mi dà sempre l'idea di un difensore che è forte, perché è forte. Però anche ieri non mi dava quella certezza. Che magari mi dà più, ecco mi ha dato più Bonucci paradossalmente. Che non gioca mai, 6 meno o meno. Il suolo ha fatto. Sì, ogni tanto il giocatore gli scappava, però qualcosina ha fatto vedere e 6, 6 meno. 6 gli do anche a Danilo, lo do anche a Danilo. Non fa, magari, non è che fosse Beckenbauer nella partita di ieri, però insomma ha fatto il suo, non ricordo grossi errori. 5 ad Alexandro. 5 ad Alexandro. Allora, deve ringraziare il Dio che Dunfris è storto quanto la Torre di Pisa. Perché ogni volta che Dunfris lo puntava, lo superava. Poi Dunfris, ve l'ho detto, l'anello debore, aveva a fondo campo, grossava così, con gli occhi chiusi, manco fosse il migliore degli spinazzola ciechi. E perdeva sempre una chiappa, una testa, la palla che andava tutta dall'altra parte. Insomma, la fase offensiva di Dunfris, per fortuna, di Alexandro non è stata il top. Però, spesso, se l'è perso. 6 meno o meno a De Sciglio. 6 meno o meno a De Sciglio, perché secondo me, alla fine, il suo l'ha fatto. E in fase offensiva, e in fase difensiva, quando si è trattato di dover contenere Di Marco. Poi Di Marco ha fatto gol, è un signor calciatore, è fortissimo. Però che un 6 meno o meno glielo do. E un 6 meno o meno lo do anche a Rabiot. Perché ha fatto tanto, si è fatto tanto vedere. Ovviamente non è bastato, perché sennò la Juventus avrebbe vinto. Però devo dire che, nonostante non sia finito sugli scudi, come fa sempre lui, la sua gara, la sua porca figura, la fa. Poi abbiamo Locatelli. A Locatelli gli diamo un 5. Locatelli non mi ha fatto impazzire. Ha sbagliato una marea di palloni. Si perde spesso il giocatore in marcatura. Dorme un po' in piedi. Non mi è piaciuto tantissimo. E non mi è piaciuto tantissimo, manco Paredes al quale do 5. Esce Locatelli, entra Paredes, non cambia nulla. Purtroppo Paredes è la grande delusione della campagna acquisti estiva appena passata della Juventus. 5,5 a Miretti. Non ha fatto bene Miretti. Secondo me non ha fatto bene Miretti. Poi siamo sempre lì con i guanti a trattarlo perché è giovane, italiano e tutto quanto. Però a Miretti secondo me poteva fare sicuramente di più. Si fa mangiare dalla partita. Kostic, sei meno o meno? Allora, fa un errore e una cosa grossa. L'errore è che se perde Di Marco sul gol, cioè che lo tiene in gioco. La cosa grossa è che stava per far gol ma Onana fa un miracolo. Per il resto Kostic è sempre ottimo. Non capisco perché Allegri, ve lo dico, gli do 4,5. Non capisco perché Allegri ha tolto Kostic, che è quello che sa crossare della Juventus, per mettere Milik, che è quello che deve colpire sui cross. Cioè per me è proprio una cosa stupida. Vabbè, Milik 5,5. Non gli arriva un pallone, poraccio. Fa quello che può, ma quello che può è poco. Di Maria e Chiesa. Di Maria gli diamo 5. Non si è visto mai. Chiesa gli diamo 5 anche a lui, ve l'ho detto prima. È uno che di solito fa quelle folate, non ha preso una palla manco a pagarla. Non gliene è andata una dritta. Non mi è piaciuto. L'attacco della Juve per me ha fatto proprio male. Ad Allegri gli do 4. 4 perché ha sbagliato tutte le scelte. L'attaccante leggero, i cambi. Malissimo. E la Juventus si merita di uscire. Fatemi sapere la vostra. Se iscrivetevi al canale, vi ringrazio. Ciao.